Vi spostate tutti insieme, siete circa 12-14 persone, insomma, fino alle spoglie di questo castello. Lentamente, mentre che vi avvicinate, avete tutti una strana sensazione. Il vostro stomaco inizia a brontolare, come se fosse preso dai morsi della fame. Voi vi fate tutti un tiro di prudenza o Reckless, che sarebbe... Prudente o... Sì, vabbè, adesso non mi viene... Avventato. Avventato, grazie. Vabbè, io ho 10 e 10, diciamo anche io. Quindi come facciamo? Dobbiamo fare su quello più alto? Devi fare su prudente se ti vuoi muovere con prudenza. O se fai in modo avventato, lo fai con Reckless. Un di venti minore uguale 10. Minore uguale? Fallito! Quasi critico. Io l'ho zeccato, ragazzi. No, io ho fallito. Io mi muovo in maniera avventata, Giuliano. O meglio, con poca attenzione, direi. Vi muovete in modo... Sparpagnato. Fate sì che il vostro seguito cerchi di trovare la giusta posizione. La giusta posizione. Cerca di non fare troppo rumore. Eppure avete questa... Vi muovete con la prudenza giusta. Chi invece si è mosso con avventatezza sta osservando qualcosa di atroce. L'ingresso del castello è stato divelto. Non c'era più una porta o se... Non sapete... Non avete idea se c'è davvero mai stata. Eppure... Quello che vedete all'interno... È tragico. I vostri... I vostri gambali... Sono bagnati da... Acqua e sangue e fango. All'interno del... Della piazza d'arme. La piazza antistante è subito l'ingresso. Vedete... Decine e decine di corpi ammassati. Sventrati. Scuogliati. Spogliati dei loro vestiti. Notate in alcuni... Il panico nei loro... Nei loro volti. La paura. Il terrore. Il dolore. Chi è arrivato... Prudentemente lì sulla... Sulla soglia. Sente il suo stomaco chiudersi letteralmente. Avere... Quasi con ati di vomito per... La creatore di morte. La pioggia è battente in questo momento. Quasi nasconde... Le cinta di mura più lontane. Ma i corpi nudi... Di un intero villaggio di circa... Quattro o cinquecento anime. È ammassato lì. Al centro di questa piazza d'arme. Nudo come... Il Dio... Ha creato Adamo ed Eva. Che fate? Io volevo chiederti... I corpi sono stati sventrati da brutalità umana... O sembra un qualcosa di diverso? Tipo proprio... I corpi più a terra... Quindi quelli più vicini al terreno... Sembrano morsi... Mangiati... Morsi di diversa... Di diversa forma e dimensione. Quindi... Dai piccoli morsi di ratti... Fino a morsi più grandi... Di lupi o similari. I corpi più in alto invece... Sembrano... Proprio stati... Proprio scogliati... Della pelle. Quindi si vede il muscolo vivo... O... L'osso. In alcuni casi... Mancano proprio pezzi di... Di... Ventre... Mancano arti... Che siano grandi... Comunque non sembra un lavoro fatto da un barbaro... O da... Un... Un animale tipo un lupo grosso. Se fosse stati molto più... A nord... Quindi nell'area... Del... Dei sassoni... Avreste detto che... Con tranquillità che sarebbe stata opera loro. Ma qui... Nel vostro territorio... È una cosa davvero... Impensabile. Soprattutto... Non con cui... Con questa modalità... Non con questa brutalità. Io diciamo che... Ho passato la prova su Valaroso... Quindi... Perlomeno riesco a guardarlo... Questo spettacolo sceno... Senza scappare via... In perdere il panico. E... Più che altro... Mi giro subito verso... Le dialisi di... Non è uno spettacolo per i vostri occhi... Ma i ledi. Venite via. Io aggiungerei che... Non è lo spettacolo per gli occhi di nessuno. Direi. Sono sicuramente membri del villaggio, vero? Credo di sì. Cerco... Invece io cerco... Mentre sto guardando... Cerco... Di no... Di lord... Tipo... Shield rose... Cioè volto... Una carcassa con abiti... Pressoché nobiliari. Quando... Quando entri di più all'interno della piazza d'arme... Il... Il dramma si fa ancora più intenso. Perché lì sulla porta non l'avevate notato. Ma una volta dentro... Ti accorgi di qualcosa... Di tremendo. Delle persone sono state inchiodate... Sulle pareti di pietra. Senza remore. Inchiodate con... Dopo qua. Un grosso chiodo al collo e alle mani. E tenute appese lì. Sotto la pila dei cadaveri. Sotto l'enorme montagna di morti sventrati. Riesce a notare... Tutti... I vessilli di shield rose. Che le... Che si sono macchiati completamente di sangue. Si sono intrisi del sangue del villaggio. Della sua stessa cittadina. E ora che fai? Lo vedi? Beh, innanzitutto non sto benissimo. Quindi... Direi che puoi fare un tiro di valore. Valoroso. Ok. Valoroso. O anche... Ma facciamo tutti? Lui è entrato. Quindi lui sta guardando... Sì, è passato. È passato. Per fortuna. Vedete Lord Gilbert... Tentennare qualche attimo. Poi risollevare bene la testa. Tronfio in petto. Camminare... Fare un passo dopo l'altro. Sentite rimbombare questo... Suono metallico della sua armatura. Tutti intorno in questa piazza... Non più vuota. Ma ricolma comunque di morte. Dobbiamo fare qualcosa per questi cadaveri. Non possiamo lasciarli qui allo scempio delle bestie. Ormai penso che l'unica cosa che si possa fare a questi poveri... E dargli fuoco. Corpi e dargli fuoco. Non avranno... Beh, comunque è un atto pietoso. Non subiranno questo rito pagano. Beh, in che senso? Che non intendo dar fuoco... A... Il corpo di un cristiano. Deve essere seppellito. Ho il mio dubbio che... Altrimenti non troverà mai la pace... Nell'aldilà. Quindi, aiutatemi per cortesia... Cominciamo a scavare. Più che altro, siamo sicuri che quello che li ha ridotti così... È andato lontano? Spero che si rifaccia vivo, sinceramente. Beh, eh... Se non è andato lontano, toccheranno ricercarlo. Più che altro, è giusto dare una delle sepolture a questi corpi... Anche solo per capire se tra di essi si trova... Lord... Lord Shieldrose. Sì, concordo con Gwydion. Poi, dagli fuoco è fuori discussione, visto che siamo sotto la pioggia. Sì, ma... Osservate questo scempio. Mentre disquisite... Se seppellerli o bruciarli... Sentite... Nella... Nella notte... O nella pioggia... Subito dopo un potente tuono... Che rimbomba ovunque in tutta la valle... Sparabash! Voi sentite... Kai vasha! So! Kantaie! Ho! So! Ko! Ah! Beh, che è per capire da dove arriva? Voltate il vostro sguardo in quella direzione... Per quanto sembri strano... Per quanto ormai rimbombi e ego in ovunque e dovunque... E notate un uomo... Sulla torre più alta, su quello che ne resta... Vestito di questa armatura verde scintillante, intrise e bagnata del sangue di chissà chi... Con la pioggia che il battente che gli... Che gli va addosso... Stoico in questo suo capello... Biondo... Color... Color dell'oro... Che si muove volto al soffio del vento... Chi sei tu che pronunci parole blasfeme? Come sento queste parole blasfeme? Anch'io è stata la spada e dico ora subito per raggiungere la torre... Mi dico seguitemi, andiamola a prendere... Duncan, tu ti butti... Ti getti a testa bassa sulla torre... Fai un passo dopo l'altro... Non interessa chi cacchio sia questa persona... È indifferente... Le sue parole di blasfemia non dovevano mai essere pronunciate... In quel modo soprattutto... Con i morti in quel... In quello stato... Senza la giusta sepoltura... Senza la giusta preghiera... Un passo dopo l'altro... È Duncan? Sì sì, lo seguo anch'io... No, è... È Givon, non è Duncan... Sì, scusate... Givon è... Sì, mi sono confusi i vari fallimenti successi... Sì... Vi... Segui anche tu il... Segui anche tu... Givon verso il... Il blasfemo... Un passo dopo l'altro... Sentite le scale che... I vostri passi che rimbombano nelle scale vuote... L'intero... L'intero castello... Sembra... Strano... Mi sembra pesante... Mi sembra sordo... Ma è... In qualche modo è... Cioè... È completamente crollato... O c'è ancora... Zona aperta? Il... Il massi centrale... È ancora semi-integro... La scale a... Accioccio all'interno di questa sorta di torre... È ancora abbastanza funzionale... E... Diciamo... In salute... Tra virgolette... Per quanto il resto del castello è praticamente diroccato... Come se fosse davvero molto vecchio... Più vecchio di quanto non dovrebbe essere... Lui è al di fuori della torre? Cioè tipo sul balcone? O è da dentro? Lui è su questo... Il balcone è crollato... Immagina che è proprio sulla finestra... Come se ci fosse il balcone... Ma... Il balcone ormai... Lo trovate a terra... Frantumato in mille pezzi... Quindi lui si sta ergendo... Quasi nel vuoto... Ok... Quindi è esposto insomma... Sì è esposto... Loro che si sono... Corsi dentro al castello... Io invece voglio rimanere fuori a tenerlo... Sott'occhio insomma... Ho comunque l'arco che uso per cacciare... Ha smontato alla sella... Ok... Che vuoi fare? È a portata... Di tiro... Con... Con il vento... Con la pioggia... Con... Direi... I morti che hai vicino... È a portata... Ce la potresti fare... Ma almeno hai bisogno di essere... Di avere il giusto coraggio... Per fare questa... Questa... Questa prova... No... Io incocco e lo tengo sotto... Sottotiro... Lo tieni solo sottotiro... Lo tengo sottotiro e appena vedo... Nel senso... Finora ha urlato e so che loro gli stanno correndo incontro da dentro... Se lo dovessi vedere che fa un qualche gesto di tipo avventato... O se ne vuole andare in qualche modo strano... Scocco... Però mi tengo tutto il tempo per tenerlo bene sottotiro... In modo anche da... Da capire come è il vento... Come è la pioggia... E tutto quanto... Ok... Chi è che è entrato all'interno della... Di questa strada di torre? No... E qui io... Il primo è Logan... Dion? Io no... E... Duncan tu no? Duncan sì... Duncan pure... Solo con Gilbert non sei entrato... Gilbert no... Però volevo chiederti se potevo fare un tiro su... La lore fatata... Tipo se so qualche leggenda di questa... Delle parole che hai sentito? No... In generale... Un uomo che dal nulla spugna un'armatura verde... Se ho sentito qualche leggenda... Certo... Come no? Vai... Devo fare minore di 6... Sì... Sbaglio Gawain... Sì... Aveva l'armatura verde... Il... Il cavaliere verde ha l'armatura verde... Eh... Non si chiamava Gawain... Gawain è quello che lo affronta... Ah ok... Nel contrario... Oggi sono fortissimo... Sei un mostro... Gilbert stai a viaggiare a mani basse o? Sì... Tutti i tre faccio... Che soziabile... Lo pensi Trudvang? Eh... Sì... Cazzo a Trudvang facevo un muro di fuoco gigante... Quindi io... Eh sì... Logan... E Duncan all'interno della torre... Gilbert... Eh... E Alice che sono fuori... Eh... Scusa Loda... Io quando... Sì... Ok... Quando sono... Quando sono dentro e comincio ad avvertire delle sensazioni strane... Cerco di... Di afferrare i miei due compagni... Di trattenerli un attimo... E dico... Un attimo non ha senso... Gettarci così alla cieca... Eh... Non perdiamoci di vista... Non può fuggirci... Sì... Ma non possiamo farlo scappare... Non può sfuggirci da qui... Eh... Dove vuoi che fugga... Non perdiamoci di vista noi... E non cadiamo in qualche suo sorrido tranello... Sei un uomo saggio... Andiamo però... Gilbert... Sono Logan comunque... Sono Logan comunque... Va beh... Come cazzo ti chiami... Andiamo... Gilbert... Tu osservi l'armatura del... L'armatura verde... Riesci a scorgere lo stemma di... Shield Rose... Ah... Un... Come dice proprio il suo stesso nome... È un'enorme rosa su... Su sfondo scudato... Ti si gela un po'... Ti si gela il sangue... Eh sì... Più di un po'... Più che altro perché sai... Non soltanto... Adesso... Mentre vedi quest'uomo... Che si sta ergendo sopra... Una pila di cadaveri... Mentre i tuoi compagni si stanno gettando al suo inseguimento... Mentre Lady Alice lo sta tenendo sottotiro... Tu ricordi una vecchia leggenda... Un vecchio... Una sorta di vecchio adagio... Che andava di moda... Che andava molto nella corte dove... Dove vivevi... Che parlava di un cavaliere... Seguito da quattro concubine... Servito da quattro concubine... Questo cavaliere... Era un uomo senza macchia... Senza paura... Un uomo di altissimo onore... E soprattutto... Da... L'enorme e incrollabile coraggio... Questo adagio... Parlando di questo cavaliere... Non fa mai esplicito nome... Né descrive la sua armatura... Parla soprattutto di queste sue concubine... Che lo hanno circuito... Al punto che lui ha ucciso la sua stessa... Stessa famiglia... Ha mandato in rovina il suo stesso... Il suo stesso regno... Per poi... Comprendere... Trovarsi nella condizione in cui... Effettivamente... Lui ha fatto... Tutto quel... Male... E... L'adagio si conclude con... La risata delle concubine... E... La loro maledizione su di lui... E poi... Il cavaliere che si getta dalla torre... Per poi morire... Nel più totale disonore... So soltanto che nella leggenda... Lui ha uccidato tutti... E poi si è uccidato da maledetto... Sì... Una cosa veramente che tendenzialmente... Non si dovrebbe mai fa... Di suicidarsi... Eh sì... È la cosa più disonorevole che esista... Esatto... Ah sì... Logan... Sì... E... Duncan... Mi fate... Una... Una prova sulla vostra... Sulla vostra... Personalità... Vi descrivo che cosa sta succedendo in questo momento... Sì... Gion, tu hai fermato i tuoi due compagni? No... Siete pronti per salire... Tanto... Eh... Lord... Sildros non può andare da nessuna parte... Eh... Li hai... Li avete... Vi siete fermati con il giusto tempo per ragionare... Poi sentite... Tre voci melodiose... Un canto suave... Delicato... Semplice... Che... Fa sparire il freddo di questa pioggia innaturale... Fa sparire... La pesantezza dei morti in cortile... Vi sentite più... Caldi... Ristorati... Vi sentite quasi... Quasi a casa... Iniziate a vedere... Iniziate a vedere... Una donna che sale... Per le scale... Un'altra... E altre due che scendono... Indossano questo... Questo vestito... Completamente trasparente... Ogni loro forma è a vista... Se non fossero stati bagnati... Dalla... Dalla pioggia abbattente... Probabilmente avrebbero nascosto molte delle loro curve... I loro capelli fluenti e corvini... I loro lineamenti delicati... La loro pelle bianca... È... È così... Incredibilmente sensuale... Che... A voi... Come... Bene... Interagire... Io... Non c'è niente che mi smuove... Dalla... Dalla fedeltà a mia moglie... Alla mia famiglia... Ho casto 16... E voglio rimanere casto... Ho l'ustorioso 13... E mi è venuto l'equipamento... Io... Posso usare la passione... Del mio... Amore per la mia amata... Per... Appunto... Non solo non cadere in tentazione... Ma anche... Esortare i miei compagni a non farlo... Sì... Puoi farlo... Devi... Ti prego... E quindi devo fare un tiro su la passione? Sì... Tira tu per primo... Vabbè... Un 18... Quindi... Quindi sei insomma... Hai fallito... Aspetta... Ancora a tirare... Ah... 18... No... 8... Ce l'ho fatta... E tu 8... Era un buon risultato... Ode... Io sono stato super casto... Madonna santa... Tu... Cioè... Proprio... Non... Non hai bisogno nemmeno della cintura di castità... E come se non ce lo avessi... Penso... Sono schifo... Lo monto solo quando sono a casa... Logan... Raccontaci come aiuti i tuoi compagni... Allora... Diciamo che io... Io vedo questa visione seducente... Diciamo per un attimo... Ne sono attratto... Non posso negarlo... Però... Diciamo nel mio cuore si fa... C'è un fuoco che mi... Che mi alimenta... Che è quello del... Del mio amore per la mia... Per la mia amata... Ormai perduta... E quindi... La... La ragione... Diciamo al sopravvento... Sulla lussuria... E... Quando recupero... Diciamo... Questo autocontrollo... Siccome mi ero messo in mezzo ai miei due compagni... Per trattenerli... Per potergli parlare un attimo... E rallentarli prima... Li prendo di nuovo per il braccio... Cerco di strattonarli... Perché si girino verso di me... A guardare me... E dico... Non cadete... In questo inganno... È una... È una sordida trama... Di quel negromante... Che si trova sulla torre... Siamo dei cavalieri... Il nostro onore... È più... È più grande di questo... Sconfiggiamo... Superiamo questa prova... E andiamo a sconfiggere... Quella... Quella blasfema... Persona... Se non mi dite... Tu hai ragione... Andiamo... Sono solo donne... Sono solo donne... Duncan... Non sono solo donne... Duncan... È qualcosa di naturale... Questo... Non lo capisci... Non capisco... Dove sei il problema... Sono donne... Sono bellissime... E sono tre... Sono le Morrigan... Tutto per te... Duncan... Ci sono 500 persone... Squartate fuori da questo... Maniero... Questo mi sembra normale... Eh Giuliano... Sono loro... Che cosa? Sono loro... Morrigan... Eh... Mi piacerebbe... No... Non mi piacerebbe per niente... In realtà... Perché saremmo già morti... In quel caso... Specifico sì... Sareste già morti... Però non sono così stronzo... Ok... Bene... Comunque... Tiriamo dritto verso quel bastardo... Criminale... Triminatore di... Di povere... Di povera gente... Sì... Io cerco di trascinarmi dietro... Anche Duncan... Dicendogli... È una trappola... Non lo capisci? Eh... Allora... Aspetta... Prova a tirare su... Temperate... Vai... Mi piacere... Giusto? Sì... Certo... Temperanza... Che ho 16... Per fortuna... Perché me la sono... Me la sono... Va bene... Meno male... Tanto... Comunque... Riesci a tornare... A tornare in te... Le parole di... Logan... Ti hanno... Risvegliato... Ti hanno tenuto... Saldo sul tuo... Sui tuoi principi... E... No... Non possono essere queste stupide donne lascive... A trattenerti dal fare il tuo... Il tuo dovere... Tu sei un soldato romano... Tu sei un soldato della legione... Tuo nonno sarebbe davvero fiero di te... Se ti vedesse in questo momento... Ti tocchi il petto... Ti tocchi il cuore... Sai che... Tutto quello che per te... È la terra... È la divinità... È il padre di ogni... Di ogni buon soldato... È la stella che ti guida... Certamente non sono queste... Questi fantasmi... Voi le attraversate come se fossero frutto della vostra immaginazione... E effettivamente è così... Erano soltanto della vostra testa... Un'immagine che... Forse è dovuta alle parole di quell'uomo in finestra... Di quell'uomo che ha gridato qualcosa di strano... Alla... Alla povera gente squartata e massacrata... Arrivate lì... Lo vedete... Lo vedete in ginocchio... Stessa cosa accade anche dall'esterno... Quindi... Gilbert... Alice... Vedete l'uomo che si accascia... Si mette in ginocchio... Nel momento stesso in cui... Arrivano... Arrivano... Gli altri... Li vedete... Dietro di loro... Dietro di lui... È in ginocchio... Si tocca il viso... Logan... Tu sei il... Sei il primo ad arrivare... Si... Che cosa fai? Allora... Lo metti chiaramente in ginocchio... Decapita... Arriviamo alle spalle... Quindi praticamente... Eh... Si... Gli siete praticamente alle spalle... Immaginate che c'è questa sorta di pianerottolo... È una vera e propria torre di guardia... Quindi... Non ha una struttura tipica... Con una... Diciamo... Con un piano bello preciso... No... Ha solo un pianerottolo... Che permetteva l'uscita... Sul... Su quello che sarebbe dovuto essere... Una... Una sorta di... Balcone... Ma quindi lui è... È inginocchiato... E la spada... Ce l'ha inguainata... La spada... La spada è inguainata... Ce l'ha cosa... Inguainata... Oh madonna... È contrario di sguainata... Ma non è vero... Ce l'ha... Ce l'ha... Infoderata... Infoderata... Ecco senti l'altro... Nella guarda... Nel foglio... Vabbè... L'ho capito... Dai andiamo avanti... E... E sta facendo... Cosa sta facendo... Sta ancora pronunciando... No... Ha le... Ha le... Il volto... Nelle sue mani... Quindi ha le mani sul viso... Lo senti... Lo senti... Lo senti singhiacciare... Ok... Io... Beh... Sguaino la spada... La sto comunque a qualche passo di distanza... E gli dico... Alzati in piedi e voltati lentamente... Io... Sono stato io... Sono stato forse io a portare... Tutto questo... Al mio villaggio... Io... Io... Io non so più chi sono... Il mio... Il mio operato... Forse... Il mio senso... Il mio lord... Mi vorrà ancora... Mi vorrà con sé... Lui... Lui mi disse che era mio amico... Mi disse che sarebbe stato sempre con me... Io... Mi sembra che stia... Blaterando... O dicendo frasi... Senza un contesto... Senza una reale... Posizione... Gilbert, Alice... Voi che fate? Ma noi siamo già di... Noi siamo arrivati... Sì... Li siete alle spalle... Li siete alle spalle... Lo sentite in blaterale... Quindi sentite proprio la sua voce... Come se stesse parlando tra se e se... Con le mani sul volto... Guarda adesso poi ti dico cosa faccio... Gilbert e Alice... Noi siamo rimasti sotto... L'abbiamo raggiunti? Sì... Ok... Sì, io sono fermo... Sì è... Quindi quello si è accasciato sempre lì sul bordo... Sì, è proprio sul... Inginocchiato sul bordo... Probabilmente anche basterebbe una forata di vento per farlo finire di sotto... Immaginate che sono all'incirca... Una... 12-15 metri a occhio... Ok, io... Cadere da quell'altezza in armatura... Eh... Diciamo che... È fatale... Diciamo che se non muori è perché... Sei sfortunato... Sei stato sfortunato, sì... E noi non abbiamo sentito ovviamente niente... Il vento ha coperto tutte le parole che ha detto l'uomo... Però l'ho visto accasciarsi e mettersi i mani sul volto... Insomma, non mi sembra più... Esatto... Non mi sembra più... Una minaccia rinfodero l'arco e... Corro sotto la torre, perlomeno... Mi sembra... Così se cade su di te ti ammazza male... No, non è che invece metto proprio un traiettoria... Ah, ok, ok, ok... Però... Magari... Se se dovesse gettà... Qualche cosa si riesce a fa... Ma chi sei? Gli chiedo io... Lord Shieldros... Posso Giuliano dinti che cosa facevo io? Sì... Eh... Essendo arrivato poco dopo Logan... Arrivo già con la spazzatura... Sì... E... Come lo vedo in ginocchio... In realtà non sto a prendere un tempo... E non ballo neanche alle parole... Voglio solo affrarlo per la cotta... Per il colletto... Sì... E tirarlo lontano dal bordo... E... E poi interrogarlo ovviamente... Però intanto voglio ritirarlo... Ok... Ehm... Con... Con che tratto vuoi farlo? Ah... Con un tratto? O anche con un attributo potresti farlo... Magari non mi sprezza... Ma ti dico subito... Ma ti dico subito... Che in realtà... Vengeful mi sembra... Ehi... Visto che lo ritengo... A questo punto... Essendo che è arrivata una lettera... Post mortem del... Del re a cui avevo prestato un giuramento... Posso ritenerlo uno dei principali... Causi della sua morte... Quindi direi su vendetta... Medicativo... Che è un po' basso... Però pazienza... Allora... Uguale... Non ammazzarlo... Adesso fa uno... Ho fatto maggiore uguale... Però in teoria... Dovebbe uscire qualcosa... Cazzo... Fallito... Perché hai messo maggiore... Se metti minore... Però è comunque fallito... Sarebbe comunque fallito... Perché ha fatto 11 su 10... Sì sì... No... Perché il computer... Pensava che dovesse fare maggiore... No... E quindi ha detto... Ah sì... Ci sei riuscito... Sì... Sei riuscito... A fallire... Tu... Hai fallito il consulzio... Sei arrivato su... Subito dopo Logan... Logan l'ha visto titubare... Tu... Senti le sue parole... Ti... Ti strassiano... Ma... La sua ammissione di colpa... È tale per cui... Non merita una... Non meriterebbe una... Una morte... Semplice... Però... Vuoi comunque... Fargli delle domande... Vuoi comunque sapere... Delle cose... Lui si toglie... Mentre tu ti stai gettando verso di lui... Lui si volta con estrema... Lentezza verso di voi... Vedete tutta la cosa a rallentatore... Lui... Con il viso rigato dalle lacrime... Vi osserva... E vi dice... Pregate per la mia anima... E si getta indietro... Tu afferri il bavero... Lo stringi con tutta la tua forza... E ti resta in mano... Ti si strappa... La di Alice... Vedi l'uomo... Cadere... Io stavo a cavallo... Io stavo a cavallo... Oh in tutto questo stavo a cavallo... No... Eri piedi... Erano scesi... Eh certo... Controllare a cavallo è impossibile... Esattamente come tirare a cavallo... Praticamente... Lo sapevano fa... Quattro razze in tutto il mondo... In tutto il... No... Più che altro in... Cioè ero a cavallo ferma... Cioè ero a cavallo ferma... E tenevo sotto tiro... Sì ma... Il cavaliere che tira con l'arco... Già non è in cavaliere... Tendenzialmente... In più a cavallo... Proprio guarda... Proprio... È proprio... È proprio l'ultima delle possibilità... Considera anche la caccia si faceva... Si fa a piedi... Ok... Vabbè c'avevo pure una buona horsemanship... Comunque... Assolutamente... Su quello non si mette in dubbio... Lui cade... Potresti... Spornare il tuo cavallo... Dargli un calcio... Cercando di... Sperare che sia sufficientemente abile... Dal... Da prenderlo al volo... Ma... Rischieresti la vita del tuo cavallo... Sapendo che è un corpo... In caduta libera... Che pesa... In armatura completa... Che sta venendo giù... Alla velocità della luce... Che si schianterà tra pochi secondi... Sul pavimento... Fangoso... Le la rischieresti la sua vita? L di Alice... Eh scusa... Rischieresti la vita del tuo cavallo... Per salvare l'uomo che sta precipitando dal... Dal... 30 metri... Non erano 10 metri... Gli è il 15 metri... Il master sta un po' dirottando... Dove vuole lui... Comunque questo mi sembra più un suggerimento del tipo... Vuoi tu vivere ancora e giocare questa... Agna? Allora stai ferma... Beh dipende da... Dipende da quello che vuoi fare... Se... Il corpo era tra i 12 e i 15 metri... È scivolato giù dopo che... Dal tuo punto di vista... Eh... Lord Gion... Come se l'avessi spinto... Non ha fatto... Adesso ho scaricato poi... Ho trattenuto malamente... Quindi... Logan era lì... Duncan era lì... Eppure loro non hanno mosso nemmeno un dito... E tu lo faresti? È l'unico... È l'unica persona che è rimasta in vita qui... Ha urlato cose... Penso che... Cioè sul momento è l'unico che ci potrebbe spiegare... Quello che qui è successo... Soprattutto se è stato lui... E... Diciamo... Che dall'impe come ci potrei gettare? Diciamo che lo fai con la... Con la personalità di... Merciful... Perché lo vuoi comunque salvare... In qualche senso sì... In qualche senso sì... Stavo vedendo quale fosse la migliore... Perché è avventata anche nel senso... Lo vedo cadere... E dall'avventatezza comunque... Mi ci getto perché comunque... È sempre una persona... Nel senso... Io sono giusta... Nel senso... Io ti posso giudicare solo a fronte di quello che... Che tu poi mi dici... Ovviamente... Considerando tutti i fatti... Io però comunque ti giudico... Nel... Nel modo giusto... In questo caso con la giustizia ci entrirebbe poco... Tu stai... Non giusto di giustizia... La giustizia... Deve essere giustizia... Ma tu stai reagendo in funzione del... Del salvarlo oppure no... Quindi o sei... Avventata e fai un'azione sconsiderata... Oppure lo salvi per graziarlo... Quindi con... Proprio con... Merciful... Quindi proprio... Puntando a volerlo redimere in qualche modo... No... Allora... È più di avventatezza... Sì... Nel senso... Io ero lì... Ero lì pronta... Lo fai senza pensare... È proprio un istinto naturale... Vai... E' avventatezza... Allora... Reclass... Faccio il sesto venti... Quanto c'è in reglass? 11... Cazzarola... Cazzarola... Ma che palle... Non lo manco... Lo manco di brutto... Giuliano... Sì... Dimmi che hai sorriso di brutto... Quando l'hai visto... Ma che palle... Ma... È... Dicevo indifferente... Magari salvarlo... Magari salvarlo sarebbe stato interessante... Però posso salvarlo ancora io, no? Teoricamente... Come vorresti farlo? Tu vedi il cavallo di Alice... Corre all'impazzata... Proprio cercando di... Sta cercando di... No, hai ragione... No, no, no... No, lo guardo... Hai ragione anche tu... Grazie... E me non posso volare... Salva me! Posso salvare lei nel caso... Se serve... L'uomo si farà cassa sul pavimento... Il suono che produce è atroce... Devastante... Senti tutte le... Tu le di Alice che sei lì vicino... Senti tutte le sue ossa frantumarsi... Indossava l'armatura senza l'imbottitura... Te ne accorgi soltanto adesso che sei lì vicino... Se ne è accorto Lord Gion quando ha attirato via il bavero... Sotto non c'era assolutamente niente... Non c'era la classica imbottitura che separa e che protegge dalle escursioni termiche... Degli urti... Sì... Il colpo è devastante... Praticamente ci passa sopra pure col cavallo... Non ci passi sopra col cavallo ma ci manca praticamente poco... Guarda probabilmente se fai merciful e riuscissi in un tiro... Allora sì lo grazieresti in quel senso... Uccidendolo... All'istante... Sì... Sarebbe la scelta migliore... Paradossalmente sarebbe giusto... Ma perché è ancora vivo? Lei... Già distallisci e smonti... Tu sei lì... Sei smontata dal cavallo... Ti sei gettata sopra... Lui ti guarda con gli occhi ricolmi di lacrime... My lady... Perdonate le mie azioni e conducetemi in paradiso... Tu... Lo osservi... Ma... C'è qualcosa di strano... Hai sentito un pizzicore... Che pizzicore... Chissà cosa c'è qua dentro... Un... Sai quando ti... Ti stringi il... I polpastrelli... Magari con... Con le dita... Te li tiri... O... Te si chiude il... O senti un... Puntura di... Di un ago... Di un... Eh... Di una zanzara... Che senti... Proprio il pizzicore... E dopo me lo sento... Sto pizzicore... Beh... Considero che tu sei lì... Ti... Ti sei avvicinata abbastanza... Da poterlo... Ascoltare... Perché la sua voce è perché mette un... Filo... Quasi... Quasi vicino a niente... Punto tre quarti... Quindi sei abbastanza vicino a lui... Il pizzicore... Difficile dirlo... Ma diciamo che... È... Probabilmente... Sulla spalla che ti ha toccato... Come fosse... Ecco... La... La situazione giusta... È come se fossi stata punta... Da una spina di rose... Un po' di mortacci sua... Eh... Questa è la delicatezza di una lady inglese... Nella... Quattrocentonovantacinque signori... Esatto... Le mortacci due... No... Se mi sento punta... Tipo me lo scanso... Di riflesso... Ma levati... Ma chi ti ha detto di toccarmi... Porco... La bottura è così leggera che... Te ne accorgi... Come... Come fosse un'ombra sulla... Nel... Un pensiero ombra... Quindi hai la sensazione ma continui l'azione... Sì... Anche perché da sopra l'armatura... Barra cotta di maglia... Barra giacca... Barra tutto quello che ci avrò addosso... In realtà dovresti avere... Al livello della spalla... C'è... Lì c'è un'aggiuntura... È aperto... Quindi... Sì... Eh sì... Cioè nel senso punto... Mi sembra... È come quando magari ti senti prudere in un punto... Dici... Ma come cazzo è possibile che mi prudalissi... Esatto... Voi altri tre scendete... Vedete Lady Alice... Riversa sull'uomo... Con le lacrime sul viso... L'uomo chiaramente... La pioggia in questo preciso momento... Con voi tutti uomini in piedi... Intorno a Lady Alice... Ancora inginocchiata... Sul corpo... Frantumato... Di Lord Shield Rose... Vedete che il cielo... Smette di piangere... Le nuvole si aprono... Un fascio di luce... Un piccolo... Semplice... Fascio di luce... Prende voi... Prende voi cinque... Prende... Il corpo morente di Lord Shield Rose... Poi... Quello che solitamente... Potrebbe essere definito... Con tranquillità... Un miracolo... Vedete che... Alla base della torre... Iniziano a spuntare... Iniziano a spuntare... Ben cinque rose... Quasi come fosse un... Un miracolo divino... Come se ci fossero... Degli angeli a cantare... Il corpo di... Il corpo di... Lord Shield Rose... Esame... Esame... Ha il suo... Ultimo respiro... A quanto pare... Qualcuno la sua... Ha avuto piedà di quest'anima... In realtà... Giuliano... Come vedo questa... Come vedo questa scena... Che... Sbocciano... Sbocciano... Sbocciano dal nulla... Perché non c'era una pianta di rose... Dove prima c'erano... O... Sono proprio cresciute così... All'improvviso... Ah... Sì... Esattamente... Eh... Come vedo questa roba qua... Con il fascio di oce e tutto... Casco in ginocchio... Piangendo... Cioè... Nel loro signore... Beh... Anche io mi in ginocchio... Però resto in silenzio... Io ero già in ginocchio... Siamo comunque... Cerconati da cadaveri... Giusto? Sì... Più o meno... Ancora la pira dei cadaveri... Vabbè... Però... Conta... Conta quanto è assurdo... La situazione appunto per questo... Abbiamo il fascio di luce su di noi... Rose che sono sbocciate... E poi 500... E poi 500 morti squartate... Esatto... Esatto... Nemmeno 50 metri da voi... Che devastazione... Io comunque sono un po' scioccato... Più che altro che... Penso a tutti... Sì... Più che a inginocchiarmi... E il tizio che ha fatto quei 500 morti... E' steso lì a terra... Che sta venendo salvato... Dalla fascia... Cioè... Da Gesù e tutti gli altri... Pensa a te... Comunque... Pensa... Pensa a sto Dio... La misericordia... Forse c'è qualcosa che non capiamo ancora... I piani di Dio... Intanto siete colpevoli di essere nati... Bello... Esattamente... Perché saremmo colpevoli di essere nati... Scusate... Non apriamo discussioni teologiche... In questo momento... Messera... Sì... Master... Folklore... Che cazzo... Con due... Folklore... Ma va... Ma Religion... Questo è un buon Religion... Questo è Religion... Ma dovrebbe essere anche un Fairy Lore... No no... Questo è Religion... Bella piena... Questo è proprio Dio che sta parlando... Olè... Passata... No... Io ho fatto 129... Ah... Su 210... Ottimo... Come hai fatto per 129... Ah... Alla c'è andato su 210... Comunque uguale... Ah... C'avevi risultato due... Mi sembrava... Mazza... Hai fatto cinque... Un fallimento... Mi sembrava troppo... Troppo particolare... Io pure c'ho solo due... Raga... Sapete che mi si è spento lo schermo... Non vi vedo più... Oh no... Anche questo è un segno divino... Così a caso si è spento lo schermo... Adesso voglio capire che cazzo ho toccato... Ah... Si è spento proprio... Eh si... Aspettate... Magari... Fuggiamo un po' di spine a casa... Un segno divino... Voi... Parli se niente... Un segno divino... Cercate una... La presenza divina in ogni... In ogni cosa... Duncan... Le loro... La loro fede è davvero molto forte... Non... Non pensavi che potessero esistere delle... Delle persone... Comunque... Ok... Eh... Sì... Religiose... Ma anche con... Un tale coraggio... E una... Tale voglia di... Di fare... Di essere... Le ammidi sotto questo mio punto di vista... Ammidi meno il fatto che... Venireno... Un dio... Che è anche vendicativo... Tu ne vede di 700... De questi divinità... Che sono anche vendicative... Per quanto possono essere 9 volte su 10 benevole... Ma io e Duncan abbiamo la stessa religione... Quindi... Duncan è un romano doc... 100%... Ah no... Lui è romano romano... Quindi... È un pagano delle balle... Finché non siete arrivati voi... Noi si dominava il mondo... Qua... 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 Quella cosa che si può tranquillamente pensare... È successa... È successa a me... Ero lì... Ero io... E così via... Per sempre... Beh... Se Dio ha avuto pietà della morte di questa creatura... Non vuol dire che abbia avuto pietà anche per le sue azioni in vita... Quindi... Ora tocca a noi cercare di... Mettere rimedio a quello che è successo qui... È morto senza onore... È morto da codardo... Giusto? E questo non stanno a giudicarlo... E' un po' di innocenti... No no... Questo sta proprio a voi... Siete voi quelli che giudicate le azioni degli altri... In effetti... Personalmente... Personalmente è detto che... Si sia comportato in maniera poco cavalleresca... Ma è Dio a dare il giudizio finale... E se Dio l'ha salvato... Buon per lui... Vuol dire che alla fine... Realmente le parole che ci ha letto... E che realmente è rimasto... Prigioniero di un... Sortileggio... Di una stregoneria... Per aver ucciso queste persone... Altrimenti... Ciò che abbiamo visto non sarebbe mai potuto accadere... Beh... Ma veniamo a... A noi adesso... Abbiamo del lavoro da fare qui... Gilbert... Quindi... Pala... E comincia a scavare... E se continua a piovere sarà difficile... No... Adesso che ha proprio smesso di piovere... Io... Ah... Mi sembrava solo sopra di noi... Che aveva smesso... Ah... Adici... Proprio... Mi sembra di sì... Col fascio veloce divina... Ha smesso proprio di piovere... Ok... Eh... Io direi che è molto più veloce... Più sano dare fuoco a tutti i orpi... Prima che... Si... Spargano malattie... Ancora ne stiamo discutendo... Non ho intenzione di lasciare queste anime... A vagare... Per la terra... Senza sacca sepoltura... C'è magari un... C'è magari un fossato intorno al castello... Posso accontarmi di una fossata? Sì... C'è una sorta di fossato... Sì... Potreste sfruttare quello... Beh... Allora sfruttiamo una parte del fossato e... Esatto... Allora con qualche canale otto di dinamite... Possiamo far saltare il fossato per coprirli? Eh... Non c'è la dinamite... Ah cazzo... È vero... Scusate... Ma cosa? C'è che dobbiamo lavorare per... Io so che sto per fare una cosa molto brutta... Ma... Come si dice... In lingua anglosassone... Mi metto a controllare... Se il... Se il lord... Ha qualche segno sul corpo... Strano... Che ne so... In che sesso in lingua strana... Mi facciamo l'ispezione... Lo stai luttando malamente... In celtico scritto... Ah lo stai luttando... Ah ok... Si chiama loot... Looting... Però non c'è l'abilità... Vedi in pendragon non è prevista... No però... Però potrebbe avere qualche segno magari... Se è stato punto... Secondo me è recognize... Visto... Visto quello che mi son sentita io addosso... Quando mi ha toccato... Questa specie di puntura... Sì... Potrebbe darsi che magari anche lui... Che lui ci abbia invece segni... Di... Appunto di... Del genere... Di punture sul collo... O... Magari... Magari può riconoscere... Le può trovare... Ti... Lo spogliate... Delle sue vestigia... Sì però signora non guardi eh... Eh sì... Chiaramente... Lady Alice... Tu volgi lo sguardo... Dall'altra parte... Ovviamente... La potecizia... Eh... Non sia mai che tu possa guardare... Le grazie di un uomo... Morto... No... Di un altro uomo... Di un altro uomo... Di un altro uomo... Piaccicato... Fai al suolo quindi... Sì... Non è poi... Tra l'altro un bello spettacolo... Duncan... Tu... Togli... Le vestigia... Del... Di... Lord Shieldrose... Mmh... E... Lo spettacolo che ti si pone davanti è... È tremendo... Non per... Il fatto che si abbia impattato con il pavimento a quella velocità... Non per il fatto che il suo corpo è praticamente diventato un buddino... Ma per il fatto che l'interno della sua armatura era ricoperto di rampicanti spinosi... Mmh... Mmh... L'interno della sua armatura... Era imbottito... Era imbottito del... Dei gambi delle rose... Siamo ancora convinti che quelle rose siano state un segno divino? Sì, certo... Di quale? Assolutamente... Più la corona di spine... Dell'unico... Di Cristo... Voglio portarci dietro il pagano... Scusate... Dell'unico... Meno Dio... Aha... Voi... Valle di questo... Seppellite i morti... Implicate diverso tempo per fare... L'intera cerimonia... Per fare l'intero rituale... Per fare la vostra preghiera... Per fare quello che sentite di voler fare... I suoni tutti intorno a voi sono vattati... Sono particolari... Sono strani... Vi sentite un senso di leggerezza... Misto alla pesantezza di dover seppellire così tante anime... Molte innocenti... Molte altre chiaramente no... Ma... Diamine... Lord Shidros ha perpetrato... Oltre 500 omicidi... Ha tolto la vita ad oltre 500... Persone... Eppure... Un Dio... Lo ha forse perdonato? Questa è l'augurazione elementare... La fate... Nelle vostre... Nelle vostre case... Quando ormai... Vi siete spogliati... Delle vostre... Dei vostri averi... Delle vostre... La vostra pesantezza... Della giornata... Del viaggio... Questo pensiero... Lo fate quando... Davanti allo specchio... Vedete... Che il vostro corpo... Ha subito chiaramente la fatica del viaggio... Il vostro viso porta i segni... Della morte di quelle persone... Ma c'è un'altra cosa che notate... Su ognuno dei vostri corpi... C'è una piccola puntura... Un piccolo segno... Esattamente come quello che vi... Vi procurerebbe... La spina di una rosa... Benvenuti signori... Nell'esilio delle rose... 하고 a ver... Inlici... Fac importance... Che si précie... Ma sono vinti...